Oggi abbiamo sfoglia, cosciutto cotto, formaggio sfamabile, formaggio provolone, ok? Cominciamo. Abbiamo spredato il cheese, c'è il pan, un po' di provolone e il sfoglia. Let's start, ok? Spamiamo il formaggio sfamabile, ok? Spread the cheese. Quindi finiamo spredendo il cheese, ok? Quando è finito di spammare il formaggio, prendiamo il prosciutto. Andiamo a mettere il prosciutto. Voi finisci il prosciutto. Quando è finito di mettere il prosciutto, prendiamo il nostro formaggio provolone. Provolone. Adesso andiamo a rotolare, ok? Andiamo a fare il dettaglio. Quando è finito di mettere l'italiano, quando è finito di mettere il prosciutto, prendere l'italiano. Andiamo a formare una roba che è come questa. Ci proviamo. Sì, la teglia, ok? Facciamo così. Dove? Comincia. Così. Ci provo. C'è la teglia, ok? Ok vedete? Spamiamo un po' l'uovo, è pronto, andiamo a metterlo in fondo, ok? Ok? Let's go put it in the oven, ok? It's ready. Oddio, si stanno staccando. Vi assaggiare, ok? Ok? Mmm, molto buono, ok? 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 Ok?